K-N-R-B-0 rilevato! Incontro imminente! Quella nave farebbe prima da battersi da su. Non li puoi fermare? No, non abbiamo l'autorità per dar loro ordine. No, non abbiamo l'autorità. No, non abbiamo l'autorità. No, non abbiamo l'autorità. Grazie per l'aggiornamento, Mirai. Mi stanno bloccando ancora. Prima fate fuori i robot! Sono all'interno del sistema. No, non abbiamo l'autorità. No, non abbiamo l'autorità. Nagan avail, non abbiamo l'autorità. Sì! Il nostro corso gratuito è un ma suppose è guarda qui è stupid. Stavolta sono in due. Forse credono che mi piaccia freddo. Mi sono mancato, cara. No, tu. Mi piacevi di più quando pensavo fossi morto. E tu quando non dovevo sentire le tue stronzate. Andiamo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.